E' chiaro che da parte mia posso dire che noi stiamo dall'inizio di quest'anno passando diversi problemi per questo fatto qua, quindi è una cosa che ci pesa anche sul campo perché va a condizionare la classifica, va a condizionare il lavoro, va a condizionare il parere delle persone perché nel momento in cui sei in zona retrocessione la cosa non è semplice. Però io ci spero, ci spero perché credo tantissimo nella giustizia. Io la settimana scorsa ho fatto un discorso che era importante per dare più convinzione alla squadra e secondo me dobbiamo aumentare questo aspetto qui perché secondo me a Savona è mancata proprio quella convinzione, quella cattiveria, quella rabbia di volerlo il risultato. Tutto Cuoio è una squadra che ha fatto molto bene all'inizio e in questo momento qui sono cinque partite che ha fatto un punto quindi l'insidia sta proprio sul fatto che avranno proprio una cattiveria e una rabbia per cercare di ottenere il risultato. Noi da parte nostra però dobbiamo avere anche noi questa cattiveria e rabbia perché noi dobbiamo assolutamente far risultato quindi sarà una partita da affrontare con grande umiltà, grande applicazione e dobbiamo cercare di far risultato. In questo momento qui dall'inizio è chiaro che partirà sicuramente forte Petrella però gli altri due sono in grande considerazione perché mi devono dare dei segnali importanti, mi devono risolvere qualche partita insomma perché non è che poi gli attaccanti hanno bisogno di fiducia però bisogna che diano anche dei segnali importanti.